Buongiorno, benvenuti al telegiornale dell'Umbria di Tef Channel, la prima edizione che apriamo con la doppia operazione messa a segno dai carabinieri di Assisi. Oggi a Santa Maria degli Angeli la conferenza stampa in cui sono stati dati i dettagli dell'attività di indagine che ha portato all'arresto di una persona responsabile di una serie di furti commessi in più di un'abitazione e in luoghi di culto e ha otto denunce per ricettazione. C'era per noi Alessio Romanelli. I carabinieri del Comando Provinciale di Perugia, in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno portato a termine due complesse indagini convergenti in un unico procedimento penale che si sono concluse con l'individuazione del responsabile di una serie di furti in abitazioni e luoghi di culto in Umbria e Toscana. Nel maggio del 2017, a seguito di una denuncia di furto presentata da un cittadino assisano al quale erano state rubate due moto antiche ed altri oggetti, i carabinieri di Assisi rinvenivano in un capannone industriale di Bastia, una delle due moto ricercate. Una moto Guzzi, il titolare del capannone, era stato quindi deferito per riciclaggio e falso insieme ad una antiquaria di Santa Maria degli Angeli che gli aveva venduto la moto qualche mese prima. L'azione dei carabinieri è proseguita in quanto venivano raccolti ulteriori elementi di indagine da cui emergeva che l'antiquaria, qualche mese prima della vendita della moto Guzzi, aveva venduto anche l'altra moto ricercata, una Ducati Scrambler. Inoltre si veniva a conoscenza che entrambe le moto le erano state portate nelle sue negozio dall'ex marito, 44enne già noto per episodi analoghi di Morante da anni in Umbria. Il costante monitoraggio delle utenze telefoniche in uso alle pregiudicate e alle ex moglie hanno permesso di identificare i ricettatori compiacenti coinvolti nella fitta rete di attività illecite messe in atto dai coniugi. L'analisi successiva all'ascolto delle migliaia di telefonate intercettate ha portato gli investigatori ad eseguire una serie di mirate perquisizioni presso quattro antiquari della provincia di Perugia ed uno della provincia di Arezzo che hanno portato al rinvenimento e sequestro di oltre 100 oggetti costituiti da beni ecclesiastici, opere d'arte e dipinti, beni dal valore di oltre 100.000 euro che si è accertato essere provento di furti eseguiti su chiese, cimiteri, ville ed abitazioni ubicate nelle zone di città di Castello, Umbertide, Montone, Resina, Assisi, Magione e Tuoro sul Trasimeno. A questa indagine si è unita quella condotta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia, operazione questa avviata nel marzo 2019 in seguito alla denuncia di furto presentata dal parroco della chiesa della collegiata di Umbertide, Monsignor Don Pietro Vispi. Dalla chiesa erano stati infatti rubati alcuni pregiati manufatti contenenti reliquie di santi. Gli accertamenti hanno portato ad individuare, grazie alle immagini ricavate dalle telecamere di sorveglianza e dalle notizie fornite da un testimone oculare, il presunto autore del furto, il 44enne LG, noto pregiudicato di origini sarde, lo stesso soggetto coinvolto nelle operazioni dell'altra indagine. Gli approfondimenti sui movimenti dell'uomo hanno portato gli investigatori a trovare ulteriori riscontri anche in relazione ad una serie di furti effettuati presso luoghi di culto avvenuti a partire dal precedente mese di marzo. Le varie risultanze operative sono quindi confluite in un unico filone di indagine che ha portato all'arresto del 44enne e alla denuncia di altre otto persone per furto e ricettazione di beni culturali di provenienza ecclesiastica. Prima di parlare della politica, un altro aggiornamento di cronaca a Terni. Un 34enne dominicano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo essere stato sorpreso nel centro della città di Terni a cedere dossi di stupefacenti. All'uomo sono sei sequestrati a seguito delle prequisizioni, 15 grammi di cocaina è stato posto ai domiciliari. Adesso torniamo a parlare dell'appuntamento con il voto del 27 ottobre. Le regionali in Umbria, un banco di prova a questo punto anche per la nuova convergenza, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, a proposito di una ipotesi di candidatura alle prossime regionali in Umbria, sono arrivate le parole proprio di Fausto Cardella, procuratore generale della Repubblica di Perugia che ha commentato sul quotidiano La Nazione le voci che lo vorrebbero tra i possibili candidati presidente della regione per il patto civico lanciato da Luigi Di Maio. Sono rusingato, addetto alla Nazione Cardella e onorato che qualcuno abbia pensato a me per un progetto amministrativo e politico diverso dagli schemi consueti. Dopo una vita trascorsa a perseguire la terzietà, l'indipendenza del giudizio, a cercare di capire le ragioni degli altri, a coltivare il dubbio, non è facile passare alla politica che al contrario è passione civile e difesa della propria idea e della propria parte. Non sono del tutto sicuro, ha aggiunto Cardella, che sarei capace di passare alla politica in modo così veloce. Si tratta per un magistrato di un passaggio delicato che richiede tempo e una riflessione ponderata non solo per coerenza con la propria storia ma anche per rispetto di chi ti propone. Il tempo in questo caso ha concluso. È troppo poco. Rimaniamo ancora sulle regionali in Umbria perché domani gli iscritti al Movimento 5 Stelle residenti nella regione dell'Umbria, abilitati al voto sulla piattaforma russona, saranno chiamati a votare per scegliere i candidati che formeranno la lista del Movimento 5 Stelle per la regione Umbria. Un iscritto, come viene riportato dal blog del Movimento 5 Stelle, avrà a disposizione fino a due preferenze su base regionale. Il tempo però stringe, come fa sapere il Partito Socialista, il PSI, quindi PSI che chiede di aprire un confronto tra tutte le forze politiche, movimenti civici alternativi alla destra, quanto sostiene il segretario del PSI dell'Umbria, Cesare Carini. I socialisti umbri che in questi giorni hanno lavorato intensamente alla costituzione della coalizione civica, verde e socialista, pur confermando le riserve sul percorso fin cui intrapreso per la definizione delle scelte politiche e programmatiche sul metodo per individuazione della candidatura alla presidenza della giunta regionale, prendono atto della recente evoluzione del quadro politico regionale. Dunque occorre subito aprire un confronto, detto Carini, tra tutte le forze politiche e movimenti civici alternativi alla destra in Umbria. Centrodestra che oggi si ripropone in Umbria con il leader della Lega Matteo Salvini, con la candidata del centrodestra, la senatrice della Lega, Donatella Tesei per le regionali del 27 ottobre, appuntamento al Teatro di Gubbio dove saremo presenti, naturalmente con le telecamere di Tef Channel e tanti particolari, come ha preannunciato Donatella Tesei anche su quella che è la lista che presenterà per le prossime elezioni regionali. Andiamo avanti, dunque, della politica, andiamo a Città di Castello perché si torna a parlare del caso Color Glass e viene preannunciato un consiglio aperto proprio sulla questione, un consiglio comunale aperto sulla questione legata all'azienda di Trestina. La proposta avanzata dall'amministrazione, dunque, di un consiglio aperto durante la seduta della stessa di Città di Castello che si è svolta il 16 settembre, è stata condivisa anche dalle forze politiche in aula. L'iniziativa nasce nella serie di attività che riguardano l'azienda del Trestinese, in particolare le dichiarazioni del Ministero sulla sua solubrità con un documento posto all'attenzione del Consiglio che a fronte della disponibilità a confrontarsi in maniera monotematica su questo tema non è stato discusso, questo per quanto viene riportato in un comunicato. Approvati a maggioranza, invece, i due punti suppletivi del Consiglio Comunale. A maggioranza, infatti, passata sia la proposta per applicazione delle agevolazioni fiscali sul costo di GPL e gasolio da riscaldamento metanizzato e non metanizzato, sia l'altra sulla convenzione tra zona sociale Alto Tevere e zona sociale 7 per la gestione del servizio di adozioni nazionali e internazionali e il servizio di affido familiare. Parliamo adesso di lavoro. Presentati i dati sui programmi occupazionali delle imprese operanti in provincia di Perugia, rilevati dal sistema Excelsior, diffusi dalla Camera di Commercio di Perugia. Vediamo i particolari con Paola Costantini. Sono 10.860 le unità lavorative che le imprese hanno previsto di assumere nel trimestre settembre e novembre di quest'anno, con una crescita secca di quasi il 10% in più rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. È quanto emerge dai dati sui programmi occupazionali delle imprese operanti in provincia di Perugia, rilevati dal sistema Excelsior, diffusi dalla Camera di Commercio di Perugia. Nel solo mese di settembre in corso, le necessità occupazionali delle imprese raggiungono quota 4.070 lavoratori, più 7,1% sullo scorso settembre. Delle entrate previste, il 40% sarà stabile, ossia con contratti a tempo indeterminato di apprendistato. 13 punti percentuali in più su un anno fa. Scendono al 60% i posti a termine. In 36 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione, i tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale, conduttori di mezzi di trasporto. Da settembre a novembre le imprese prevedono di destinare il 28% delle entrate a lavora giovani con meno di 30 anni, 1.140 posti. Prevista l'assunzione nel mese corrente di 590 laureati. Le imprese che hanno previsto assunzioni salgono al 13% delle 16.000 della provincia di Perugia con almeno un dipendente. Dunque a settembre hanno previsto assunzioni circa 2.080 imprese. A creare più posti di lavoro sono quelle con meno di 50 dipendenti. Il 65% del totale entrate al lavoro viene da qui. Adesso andiamo a parlare di collegamenti che riguardano delle novità dell'aeroporto di Perugia che ha annunciato una nuova rotta estiva per il 2020. Perugia sarà collegata allo scalo di Rotterdam in Olanda. Vediamo. Tra poco i particolari su questa nuova rotta di collegamento con l'Olanda dal aeroporto internazionale di Perugia. Allora in attesa di poter seguire questo servizio sul aeroporto internazionale di Perugia vediamo se è possibile trasferirci nuovamente a Foligno. Poi torneremo a parlare sempre in chiave di Foligno dei primi d'Italia. Evento presentato oggi a Perugia per la seconda volta. La terza presentazione ci sarà proprio nella città folignata lunedì. In questo caso andiamo a Foligno e più precisamente nella località di Budino. Però no. Allora è pronto il contributo sull'aeroporto internazionale di Perugia. Poi torniamo a parlare del caso Coleotteri, la frazione di Budino di Foligno. Allora torniamo alla rotta estiva Perugia-Rotterdam per la prossima estate 2020. Vediamo. Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France annuncia ufficialmente l'apertura di una nuova rotta estiva per il 2020 dall'aeroporto internazionale di Perugia, quello di Rotterdam in Olanda. I voli programmati per sette mesi saranno attivati nel periodo 1 aprile 30 ottobre 2020 e saranno operati da un Boeing 737-700 due volte alla settimana nei giorni di mercoledì e di sabato. Siamo particolarmente orgogliosi, afferma il direttore generale dell'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi, Umberto Solimeno, in una nota della SASE, di questa scelta di Transavia di operare il collegamento con Rotterdam. L'Olanda è il secondo mercato turistico di incoming in Umbria dopo quello del Regno Unito e siamo sicuri sarà ben sostenuto ed apprezzato dalle imprese Umbre del settore. La trattativa, durata oltre un anno, ci permetterà nel 2020 di attivare l'unica nuova destinazione annunciata dall'Olanda per l'Italia. Questo ulteriore collegamento, che si aggiunge a quegli invernali precedentemente annunciati, Linate e Malta, dimostra ancor più le potenzialità del nostro territorio e del suo aeroporto internazionale. Adesso andiamo nella frazione Folignate di Budino, dove si è registrata una vera e propria invasione di insetti e più nello specifico di coleotteri. Il comune di Foligno si sta adoperando per far fronte al disagio causato ai residenti di questa frazione di Foligno. Poi il problema si sta estendendo anche ad alcune località vicine. Vediamo. Il comune di Foligno monitorerà costantemente la situazione relativa alla presenza di coleotteri nella frazione di Budino. A questo scopo c'è stato un incontro, presenti amministratori, rappresentanti di ASL, bus, funzionari tecnici comunali. La cabina di regia congiunta renderà più efficace e diretta l'azione di tutti i soggetti coinvolti, ha spiegato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. La verità è che si tratta di un caso unico in Italia, con professionisti ed esperti di vari settori che stanno ancora approfondendo il fenomeno e vogliono darci risposte scientifiche e concrete. Non essendo un fenomeno pericoloso, come sindaco non posso emanare alcuna ordinanza, anche perché, come ci è stato spiegato, una disinfestazione, anche se può sembrare paradossale, andrebbe invece a creare problemi. Da quanto emerso dall'incontro, l'infestazione ha già coinvolto anche i territori comunali di Trevi, Montefalco e Castelritaldi, rendendo l'area interessata particolarmente estesa. Sono state predisposte alcune azioni di intervento. Saranno effettuate pulizie giornaliere con spazzamenti stradali straordinari all'alba e si precisa che lo smaltimento dei coleotteri è assimilabile allo smaltimento dell'organico e pertanto non sono necessarie raccolte particolari. Si sta predisponendo l'utilizzo di speciali trappole luminose per attirare i coleotteri in punti precisi e di catturarli in grandi quantità con un rapido contenimento del fenomeno. Questa strategia sarà adottata unitamente ad una limitazione della pubblica illuminazione. Dal vertice sono emersi anche alcuni consigli comportamentali per alleviare la situazione, limitare l'illuminazione quanto più possibile e limitare la lavorazione dei terreni. Un incidente, torniamo per un attimo alla cronaca, a Terni in Viale Trento con una ragazza che ha fatto le spese ricoverata all'ospedale, illeso invece l'altra persona coinvolta in questo incidente con entrambe le autovetture che procedevano in direzione Viale Turati e sul posto. La polizia locale per tutti gli accertamenti di questo incidente è accaduto ieri notte a Terni. Adesso torniamo a Perugia, allo stadio Santa Giuliana, per anni sede dell'impresa del Perugia Calcio, ora impianto dedicato all'atletica leggera. È stato lo scenario della donazione. di un defibrillatore. Dunque avrà a disposizione questo defibrillatore, il tutto dovuto alla donazione da parte dell'associazione Cuor di Leone Onlus. Andiamo a sentire Nicola Agostini. Lo stadio Santa Giuliana, per anni sede delle imprese del Perugia Calcio ed ora impianto dedicato alla pratica dell'atletica leggera, avrà da oggi in poi tra le sue dotazioni anche un defibrillatore, il tutto grazie alla donazione da parte dell'associazione Cuor di Leone Onlus. L'associazione è da anni impegnata in una massiccia attività di prevenzione particolarmente importante all'interno di un impianto sportivo come appunto di Santa Giuliana, frequentato da giovani e meno giovani, professionisti ed amatori, dediti a tutte le discipline dell'atletica leggera. La donazione del defibrillatore consentirà di garantire ai frequentatori dello stadio una maggior sicurezza in caso di emergenza, contribuendo a salvare vite umane. La cerimonia è avvenuta in una tipica giornata estiva alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, del presidente dell'associazione Cuor di Leone Onlus, Quartilio Mosconi e del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Carlo Moscatelli. L'associazione è importante perché svolge iniziative per diffondere la prevenzione, il concetto della prevenzione, ma il concetto della prevenzione poi deve essere accompagnato anche con gli strumenti. In questo caso noi quest'anno abbiamo fatto alcune donazioni con i defibrillatori, tra cui il Sacro Cuore, la chiesa di San Pietro, poi questo. Abbiamo poi svolto iniziative nei confronti del centro di abitazione cardiologica del Grocco, dove abbiamo fatto una donazione per dare strumenti efficienti per quanto riguarda l'attività di riabilitazione. Questo è un esempio bellissimo di collaborazione tra l'associazionismo e le amministrazioni comunali, in questo caso lo sport del Comune di Perugia. Quindi grazie veramente all'associazione Cuor di Leone per questa donazione, un piccolo importantissimo tassello che il Comune di Perugia e l'amministrazione comunali intera apprezza e coglie come un inizio magari di un'ulteriore collaborazione. È tutto pronto per la ventunesima edizione dei Primi d'Italia, appuntamento ormai di creatura internazionale a Foligno dal 25 al 29 settembre. Primi d'Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti, evento che porta in primo piano i migliori primi piatti d'Italia, dalla pasta al riso, passando per la polenta, ma anche i vari prodotti agroalimentari per la creazione di uno gustoso primo. L'evento enogastronomico si svolgerà nel centro Folignate dal 25 settembre. Vedrà la partecipazione anche quest'anno di personalità eccellenti del mondo, dello spettacolo, della musica, dell'arte culinaria, degustazioni, lezioni di cucina, dimostrazioni e grandi. Chef, oggi la presentazione nella ventunesima edizione a Palazzo Venini a Perugia, dopo la presentazione a Damatrice, terza presentazione si terrà lunedì proprio a Foligno. Ventunesima edizione di Primi d'Italia. Siamo i primi d'Italia, i primi d'Italia, per noi la pasta è una passione, il nostro primo amore. Adesso parliamo di cultura. Grande appuntamento oggi alla Galleria Nazionale dell'Umbria per l'anteprima, per la stampa, per la mostra L'autunno del Medioevo in Umbria. Cofani inuziali in gesso dorato, una bottega perugina dimenticata. Andiamo a sentire Valentina Baldoni. Cofani inuziali in gesso dorato e una bottega perugina dimenticata. È l'autunno del Medioevo in Umbria, la nuova mostra curata da Andrea De Marchi e Matteo Mazzalupi, in programma alla Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia dal 21 settembre al 6 gennaio. Una serie di cassoni inuziali sono in mostra, cassoni del 400 in uso delle rimorie rinascimentali italiane, di cui si conservano pochi esemplari e alcuni ascrivibili a Giovanni di Tommasino Crivelli e alla sua bottega perugina. I pregiati manufatti raccontano frammenti preziosi della vita privata delle famiglie nobili e borghesi che li avevano commissionati, documentando uno spaccato della cultura figurativa perugina del XV secolo. È una mostra a cui teniamo moltissimo perché è un'operazione che valorizza straordinariamente il nostro patrimonio. Un terzo delle opere in mostra sono della galleria e sono tra le opere meno viste, meno studiate, meno considerate. Quindi è per noi un'occasione straordinaria quella di metterle insieme molte altre opere di musei europei che ricostruiscono la storia di una bottega del tutto dimenticata. Una bottega che sta tra la fine del gotico e l'inizio del rinascimento e che anche in galleria di solito è confinata in due sale dove si transita molto velocemente. Invece la particolarità di questa bottega è quella di fare straordinari cassoni nuziali in gesso rilevato e dipinto oltre ai dipinti ovviamente più tradizionali su tavola e proprio questa produzione di cassoni è in mostra a Perugia oggi con una rappresentatività notevole. Non è facile trasportare un cassone, non è facile trovarli interi e siamo riusciti a fare un lavoro di grande convincimento sugli altri musei. È in qualche modo la risposta perugina alla produzione più aulica fiorentina con grandi temi mitologici ed esemplari perché questi cofini esibiscono piuttosto scene festaiole, corteggi nuziali in realtà anche le storie di Lucrezia ma è questo aspetto coloratissimo, variopinto e polimaterico che li collega alla stagione del gotico internazionale che a Perugia è un genere un po' dimenticata ma fu grandissima dopo l'attività di Gentile da Fabriano e il protagonista della mostra è questo Giovanni Tommasino Crivelli che fu poi maestro di Benetto Bonfigli, l'alfiere del Rinascimento a Perugia e che però è in rapporto appunto con questa cultura tardogotica. Tra l'altro di Crivelli tornano a Perugia due annunciazioni strepitose una dal Musée Jacques-Marc-André a Parigi l'altra dal Musée du Petit Palais ad Avignone e entrambi in maniera inconsueta ambientano l'annunciazione invece che nella Cova della Vergine nel Palazzo dei Priori e quella di Parigi addirittura si riconosce molto bene la sala d'udienza del Collegio della Mercanzia quindi come dire l'orgoglio e l'identità cittadina si trasfondono in questi dipinti di devozione come nei sessi cofani perché in alcuni che vengono da Londra, Victoria and Albert nel corteggio nuziale si vedono i trombettieri con lo standardo con granito, il grifo perugino e poi fino a pochi anni fa al Victoria and Albert passavano come opere fiorentine quindi penso sia un risarcimento importante per Perugia, per l'Umbria. Per avvicinare il pubblico dei più piccoli a questo affascinante argomento inoltre la Galleria Nazionale dell'Umbria ha pubblicato un racconto per bambini scritto da Cristina Minelli e illustrato da Bimba Landman. Torniamo adesso a Foligno per l'edizione 2019 della Quintanella andiamo allora a seguire insieme la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio con il presidente dell'ente organizzatore sentiamo Paola Costantini Al via la 43esima edizione della Quintanella di Scafali in programma fino a domenica 22 settembre quando otto piccoli cavalieri si sfideranno con le loro biciclette il presidente dell'ente giostra della Quintanella Massimo Palini nel presentare il programma evidenziato le novità di quest'anno abbiamo deciso di diventare un'associazione di pubblico spettacolo con l'obbligo del tesseramento per i partecipanti anche per la tutela e la sicurezza dei bambini ha detto Palini in quest'ottica quest'anno non ci sarà la presenza dei 400 bambini in piazza ma solo di una delegazione di 25 mentre la sfilata vera e propria avverrà nell'area degli impianti sportivi non ci sarà la gara del dolce desinare ma l'investitura del cavaliere nel corso dell'incontro è stata ricordata l'importanza dell'educazione attraverso il gioco per i bambini ed il fatto che la Quintanella non rappresenta una quintana in miniatura ma ha una sua storia Allora la prima cosa che ci siamo posti noi l'obiettivo era quello della sicurezza perché sempre di più è un problema sentito non solo nella Quintanella ma in generale quindi ci siamo posti il problema appunto di riportare come solito i 400 bambini perché parliamo di oltre 400 bambini in una piazza abbastanza stretta e magari forse verrà meno la bellezza ma io sono sicuro che sarà bello uguale porteremo una piccola delegazione inizialmente nella piazza e poi verranno raggiunti da tutto il resto del corteo che faremo sostare in una zona più sicura perché poi la piazza è quella viombita di tutti a vedere la presentazione del cavaliere piuttosto che l'estrazione di chi partirà prima però ecco questa è una novità L'altro obiettivo è quello di conservare e continuare nella continuità però per forza maggiore abbiamo dovuto cambiare un'altra serata che è quella del giovedì che solitamente era anzi è diventata una delle serate più importanti della Quintanella che era la serata del dolce desinare per una serie di motivi l'abbiamo sostata per un attimo e abbiamo introdotto un'altra serata che è l'investitura del cavaliere saranno una scena secentesca dove verranno coinvolti oltre 40 bambini ognuno ci avrà la sua parte c'è una regia quindi siamo convinti che verrà fuori un'altra serata importante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti